Ciao ragazzi, sono tornata all'hotpot cinese, vediamo che altro possiamo prendere. Iniziamo con i funghi ostrica o oyster mushroom, sono dei funghi più fibrosi e sanno di capa santa ragazzi. Queste sono fettine di manzo, però non so ragazzi di quale razza, però molto buone. Poi c'erano questi involtini di carne di manzo con ripieni di coriandolo e peperoncino sotto aceto. Altra carne di manzo, questa è una delle mie preferite. Questa è salame cinese ed è molto dolce, vi consiglio di prenderlo tipo per smorzare con il piccante che ci sta un sacco bene. Ho cercato di mangiare sano quindi abbiamo preso un po' di verdure da sbollentare così. Infine queste polpette di manzo che praticamente le mettete crude e non avrete problemi a capire se sono cotte perché una volta cotte galleggeranno.